Allora, San Cristoforo. Io non so che cacchio giocare, ok? Cosa, cosa, cosa gioco? Non lo so. Tag difficult. Nuove uscite. Getting Over It with Bennett Foddy. Io ho 8,31€ nel carrello, quindi questo me lo posso permettere. Cioè, nel portafogli. Ma che... Oddio, è bellissimo! Lo voglio. Aggiungi al carrello. Ok, c'è Cuphead, ma già l'hanno giocato tutti, il mondo intero. Hand Simulator. 1,99€. Ma che stanno a fa, Cristo? Madonna. Aggiungi al carrello. Hollow Knight è in offerta, Cristo. Allora, Hollow Knight, Hollow Knight, è uscito a febbraio di quest'anno. È tra i nominati dei migliori giochi indie di quest'anno. Ma se io cerco su Google, Hollow Knight, Ita, è molto triste vedere che nessun grande YouTuber abbia portato questo gioco. Quindi io intanto aggiungo al carrello. 20€ di giochi. Hai capito? Sì, compra per me stesso, mi compro sì tra i giochi. Quindi, se siete interessati a vedere un let's play, molto in stile peo, lo sapete, di Hollow Knight, fatelo sapere nei commenti, se no ci gioco da solo. Ma adesso iniziamo a giocare. Cristo! Come avrete visto, carissimi, ora giochiamo in questo gioco ambivo che ho trovato su Steam. Sotto il tag, difficile, Cristo. Innanzitutto, questo qua, questo uomo qua, super affascinante, è Electric. E questa maglietta l'ho fatta io, così, tanto per dire. Personalmente non voglio perdere altro tempo, sto giocando con lo Steam Controller, quindi il mouse lo muovo col ditino così, è molto strano e sarà sicuramente difficile, ma va bene. New game, Bridges. Allora, noi siamo in un calderone, ok? Questo è un calderone. E oddio! E io muovo solo... Con il mio ditino sul trackpad dello Steam Controller, muovo il martellozzo qua. Ciao, questo è il mio martellozzo e io devo scavalcare le cose. Oh mio Dio, ma è magnifico questo gioco, guarda quanto è bello! Guarda! Ma guarda che bel gioco! Wow, vado, di qua, o di là, o di qua, o di là, o di qua. Wow, hai visto il cazzo di salto? Quindi aspetta, qui devo saltare. Come cazzo faccio? Allora. Wow, no, qua sì. Wow. Wow, wow, dove cazzo vado? Dove me ne vado? Non lo so, qua su me ne vado. Allora, qui non è fattibile, no? Sì, sì, stai zitto. No! Ma non è facile questo affare, ma come si fa col dito giocare così? Questo l'ha giocato con il mouse, però io non mi accontento del gioco già difficile di suo, no? Stai zitto, per favore. Va bene, signori, noi rimarremo qua tutta la vita, eh. Preparatevi. Allora, se io lo metto così... No, no, eccolo! No, no, eccolo! Wow, attenzione! Non ce la farò mai con questo dito. Attenzione. Ma che risoluzione è questa? Ma che mi sappia? Per culo, vai. Eh, cavolo. Questo gioco non è fattibile se non usi il mouse. Cristo! Vai, vai. Aspetta, se io passo qua su, no? Qua... No! Cristo, Frank, però... Tu come ti chiami, Frank? Wow! Cristo santo! Guardalo, guardalo come si è appeso. Calma. Calma. Il tuo martello è da quel lato, no? Quindi... Se tu fai... No! No! Che Cristo santo! Allora, con il mouse sembra essere un po' più fattibile. Quindi per cui adesso giochiamo così. Perché io gioco in piedi, no? Perché sono stronzo. Allora, ma quanto... Ma non è fattibile. Wow! Attenzione! 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 No, dove vai? Cristo, stai fermo lì. Ma perché questo parla sempre? No! Cristo! Vai, vai. No! Cristo! Dai, dai, su. Il calderone. Frank, il calderone. Rimarrò qui per tutta la durata di questo video. Avete capito? Allora, qui io punto il mio martello del sole. Mi lancio e faccio i giri, vedi? Wow! Mi sono grappato, mi sono grappato. Wow! Bicis! Wow! Guarda un po'. Guarda un po' come Pau impara, eh. Pau impara cose. Fermo, fermo. Frank, ma perché ti fai questi lanci? Frank! Cristo! Eccolo là. No! Fermo. Fermo. Ok. Grappati. Grappati. Grappati, ho detto. Cristo, Frank. Vedi come si fa, Frank? Wow! Bicis! Voilà! Ho il numero... No! Frank! Cristo! Dove vai? Madonna! Quindi ho capito, se io spingo in basso così, vedi? Mi do una spintarella verso l'alto. Così. Uh! 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 No, no, no! Uh! Uh! Accidenti! Andiamo qua. Ole! Easy! Easy peasy! Easy peasy! Lemon squeezy! Allora, se io faccio così e poi spingo in giù... Wow! No! Frank! Cristo! Calmo qui, Frank. Calmo. Tu devi spingere in giù. Saltare! No, no, no. Fermo. Metti giù. E... Su! Voilà! Bicis! Ma qua su c'è un milkshake. Voglio quel milkshake. Attenzione. Voi sapete che Pau è il numero uno in questi giochi. Giochi difficili. Tag. Giochi difficili. Avete capito? Dove Cristo vai? Fermo così. Fermo così. No. No, 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 no. Ah, bisogna soltanto avere del buon controllo. Cosa che io apparentemente non ho. Cristo, Frank! Dove vai? No! Ma sto appeso come un pollo, ma cazzo lo sai? Un po' di controllo. È difficile da controllare, ma quando capisci le meccaniche... Guardate bene la posizione delle mie mani. Sping in giù! E poi fai i macelli. No, Frank! Cristo! Guardate! Guarda che stronzo! Eccolo! Eccolo! Attenzione! No! Frank! No, Frank! Dove cazzo va? Frank! No! Cristo! Guarda! Sono bravo! Sono bravo! Sono bravo inizio! Frank, tu sei il numero uno. Sai di potercela fare. Vale! Il controllo, signori. Controllo massimo. Come non detto. What? What? No, no. Frank, Frank. Dove vai? Eccolo lì. Un po' di slancio ci volevo. Wop! Wow! No! Wow! Fermo! Mi stanno per cascare tutti i librini. Inalzo il martello. Che mi dia la forza per andare avanti. Adesso facciamo una bella spintarella qui e... Iniziamo la scalata! What? Mi attivo, mi attivo. Non di nuovo, ti prego. Dai che ci arrivo. No! Cristo! Cristo! Perché? Perché scarico questi giochi? Che che mi fa scaricare questi giochi? Questo gioco è come la vita. È amara e ti punisce appena non te lo aspetti. Ma se hai il controllo della vita stessa, come di questo martello, puoi andare avanti nella vita, nell'arcade così chiamata vita. Lancio! No! Vincis! Super lancio! Wop! Eccolo! L'ha preso! Ok, siamo di nuovo a cavallo. Cristo! Ma perché hai fatto così? Perché? Perché? Allora, riproviamo. Io non ho problemi. Scavalcherò questa montagna. Quanto è vero che mi chiamo Khmer? Fio di Pdor. Uoppela! Uoppela! Spinterella! Ce la facciamo? No! Stai calmo. Metti la zappetta qua. Wow! Quello era tutto una strategia ovviamente voluta. No! Cristo! Frank! Ballonando a destra e sinistra. Porco di quella zozza! Porco di quella zozza! Dove vai se il martello non ce l'hai? Dove? Dico io. Come ho fatto a partire questa musichetta simpatica che mi prende in giro? La mossa è quella giusta? Siamo di nuovo a cavallo? Non so quale cavallo. Frank! Cristo! Sei buono! Eccolo! Ok. Wow! Wow! Il milkshake! Sono appeso! Sono appeso, signori! Qui non ci sono mai arrivato, ok? Molta calma. Wow! Wow! No! Cristo! Dove vai? Dove vai? Ti prego! Eccolo! Allora, se io faccio così, vedete come mi aggrappo bene? Dovrei riuscire, ecco così, a lanciarmi bello in alto, visto che è tutta una questione di bilanciamento, strategia. Qui, un movimento bello aperto? Wow! Cosa? Calma, 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 Frank. Calma, Frank. No! No, bitches! Friches! Adesso do un bacino a questa roccia. Eccolo lì. Attenzione! Numero! Uno! Numero! Uno! Sulle mani per il martello di Pdor, Fio di Khmer, della tribù di Star. Allora, adesso vado su di qua, no? Direte voi, però ma quanto è facile questo gioco, no? Comprane uno un po' più difficile. Adesso qui un macello, perché qui vi faccio vedere cosa bisogna fare. Così, aspetta, aspetta, calma. Wow! Attenzione! No, Pdor, Fio di Khmer! Eccolo! Attenzione! Attenzione! Adesso dobbiamo fare un salto di là, no? Di qua. Che sarà epico, ok? Volete vedere il salto più epico di sempre? Doing! Io prendo un martellato e ciò prendo... Sto per cadere, che resto? Wow! Numero uno! Sono incastrato. Ok, ok? What the fuck? What the fuck? What the... No! Stai calmo, Cristo! No! Cristo santo! Ok, ok, ci siamo! Guarda questo quanto parla, mi sta soltanto dando fascisti. E qui come cazzo faccio? Cristo! Cristo, Cristo! Ok, piano, piano. Cristo, stai fermo! Ma qui come faccio? Non è fattibile. No, Cristo però! Ma come si fa quel pezzo? È impossibile. Ma come Cristo! Ma tu guarda! Praise the sun! Praise the martello! Praise the hammer! Cristo santo! Cristo! Non cadere! No! Ok, là c'ho sorda! No! Ok, là c'ho sorda! No! Basta! Ti prego! Gesù, dove sei? Gesù! Perché Gesù? Perché sei tu Gesù? Per oggi questo è quanto. Io non ho il fegato. Non ho le palle di andare avanti. So che, narrativamente parlando, questo gioco non vi ha raccontato niente. E tanto meno io. A parte che sto giocando con un mouse su dei fumetti. È uno di quei tipici giochi in cui non riesco neanche a parlare mentre che ci gioco. Ma, ecco, se questo video vi è piaciuto, mostrate un po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se volete vedere altri miei tentativi in questo... Non lo so cosa sia. Ma anche no. Basta tentativi. Primo e ultimo. Fatemelo sapere nei commenti. Ricordando sempre che questo è il vostro caro Electric... Di quartiere. Ciao! Ciao!